ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video sono kai ragazzi oggi sono tornato in questo nuovo video in una location totalmente diversa come potete vedere siamo in aperta campagna allora sono sull'adige sto registrando questo video da una action cam sj4000 2k che mi è stata inviata gentilmente dalla compagnia bangu allora questo video collaborazione perciò le ringrazio tantissimo questa agenzia dato che mi serviva veramente un action cam il link del prodotto lo lascio sotto in descrizione non costa neanche tantissimo 130 dollari dopo queste indicazioni ragazzi volevo veramente provare questa action cam sono veramente entusiasta perciò ragazzi vi farò vedere clip del luogo dove abito intanto non so se vedete in lontananza vediamo un esemplare di giada che si sta avvicinando in modo molto goffo con la sua biciclettina ecco ragazzi la giada ci ha superato mio dio con il suo vecchio cattorcio non so se sentite ora mi avvicino praticamente la sua bici ogni volta che pedala emane uno strano suono non so se sentite ciao da posso mandarti fuori strada intanto vi faccio vedere un po il paesaggio qua nel Polesine questo è l'adige per chi non lo conoscesse è uno dei due fiumi che passa vicino qua nel Veneto e poi abbiamo la giada dietro guardate che meraviglia e poi non so se sentite c'è veramente un suono di merda che viene emanato dalla bici di giada e questa qua è la mia bici è una KTM guardate ma di che cazzo è sta ombra e poi boh la giada rimane sempre indietro oh c'è un gabbiano l'olio qua c'è della spazzatura e qua stiamo andando ai 16 e 17 all'ora ora facciamo una cazzata guardate che bello questo è l'adige in provincia di Rovigo ecco quello che volevo guardate ragazzi che bel tramonto non sono ancora morto mi indica mi indica mi indica mi indica mi indica Grazie a tutti. Grazie a tutti.